Se arriviamo a 20.000 entro oggi, domani faccio lo speciale 20.000 skit, una challenge a caso. Bello a tutti i burlani, sono Marcio e benvenuti in questo nuovo video. Questo pre-video lo vedrete sia nel video delle 16 che nel video delle 18, quindi non allarmatevi se lo vedrete doppio. Oggi volevo dirvi una cosa molto importante. Avete vinto un sondaggio che avevo fatto un po' di tempo fa, magari voi non ve ne eravate neanche accorti, ma avevo detto, al raggiungimento di TotLike, avrei iniziato a fare un pochino più di video sul secondo canale e stasera vi porto una cosa che mi avete chiesto in un tantissimo in un sondaggio che avevo fatto circa 3-4 mesi fa. Ovvero, se volevate vedere il mio PC, questa sera alle 8 sul secondo canale farò uscire un video che direte Marci, perché? Ebbene sì ragazzi, stasera alle 8 preparatevi che uscirà un video mamma mia, mamma mia. In descrizione vi lascio il secondo canale, quindi mi raccomando iscrivetevi. Se arriviamo a 20.000 entro oggi, domani faccio lo speciale 20.000 iscritti, una challenge a caso. Ciao a tutti i burgoni, sono Marci e benvenuti in questo nuovo video Lui è Pamela, io sono Svetlana2003, io ho chiuso Minecraft, l'ho riaperto. Ma come? Guardate che bruttosca! Ragazzi, siamo qua per fare una potro sulla nuova mappa flower, ovviamente sempre sul mio server, perché il mio server è il top. E niente, allora adesso ho bisogno di un po' di cose per farmi un po' di scioglie. Ah, questo qua è il pot, allora. Sì, sì, il pot va perdato. Chi che va al centro? Dai, comincio io che ho 14 bloc. Vai, comincio ad andare al centro, perfetto. Io intanto mangio un attimo. La Prismarine ne hai già presa, Tano? Non ho nulla. Guarda, ne ho tre. Metti subito il primo blocco di ferro, dove sei? Sono nero i te. Qua, tieni, prendi. Ho finito il bloc. Ok, ok, vado io, vado io, te. Guarda che siamo forse... Stanno collegando gli altri, avete visto? Ok, chi che si sta collegando i? Pesa, pesa, pesa. Sono... Di chiara, gara, buona, 17, mi disse... Sono tipo i rossi, loro. Vedete se si stanno avvicinando a noi? Eh, no. Non se qualcuno è arrivato già al centro. Ok, il blocchettino principale è più o meno che l'ho messo. Oddio, raga! C'è che succede? Oddio, raga! Oddio, raga! Cos'è? No, raga! Rai subito da qualcuno? No, vi giuro. Cosa hai fatto? No, raga. Sarà pieno di mattone, dai. Ho 20 pezzi di mattone. Dai, vieni a battone. No, eh no, qualcuno deve venire al centro ad aiutarmi. Ehm... Può venire io, dai. Te, infatti vai te. Eh, non so se ce la fai. C'ho lo ste... Occhio. Guardalo, questo qui che voleva ucciderti. Oh! Ok, vado. Funzione, ragazzi. Raga, 20 pezzi di mattone. E qua... Sono tantissimi. Qualcuno di voi vuole farsi l'arco con un flema o me lo faccio io? Ma fai come vuoi. Faccio io, dai, l'ho già fatto, allora. Ho ancora un mattone. Il mattone, ti vedo te, Tano, te l'ho buttato lì. Io ne arrivo con 4, guarda. Ok, fatti subito l'arco anche te, buon tech. Sì, sì. Ma basta un po' 4, sì. Sì, sì, 4 ti fai giusto, giusto. Perfè. Guarda, bombare, bombare, figa qua, bombare, bombare. Tre mattone è una cosa. Però ragazzi, c'è un problema basilare. Che poi così, mi prendete tutta la prismarine nella sua... No, io non lo prendo niente. Io ne ho preso un pezzo, ne ho preso niente. Però il fatto è che non ne espone abbastanza qua nell'isola, quindi serve qualcuno che vada al centro e prenda un po' di robe. La prismarine sai che non so dal centro, non la conosco ancora, sta... Dato che non l'ho ideata io. Non esiste. La prismarine non esiste al centro, allora ci sarà sicuro. Come non esiste? Sul serio? Dai, ci sarà, ci sarà. Morto? Il rosso è morto? Raga! Vengo un attimo al centro a controllare una cosa. Secondo me sta sopra. Può essere. Da qua non la vedo. No raga, mi butto giù, mi butto giù. Sono anch'io. Ah ma è Emma, ciao Emma. Ok. Ciao. Vedi tu quello che è venuto qua. Sì sì, sono venuto a dare il terzo antico perché ho questa difficoltà. Ma io ho tantissimo mattone. Cioè, qualcuno vuole tornare col mattone che ho, cortesemente. Eh, io sto guardando su se... E che hanno distrutto i tulip? Tulipano. Eh, Tano, scendi una... No, aspetta. Tec, ti lascia sul ponte. Sì sì, c'è il prismarine. C'è il prismarine. Ah sì. Ok, io arrivo. Arrivo a prenderli, arrivo a prenderli. Ok. Oddio, ce n'è uno lì. Ce n'è uno lì che mi sta attaccando. Raga, mi sta attaccando. Ma l'hai preso? Sì, l'ho preso ma... L'ho ucciso? Dai che è infucato. Qua, 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 qua. Lo ucciso. Sta rubando. Sta rubando. Sta arrivando, sta scappato. Sta scappato, è scappato. È dietro qua, è dietro qua. Si è buttato giù nella cascata, ragazzi. Credo che abbia... Non ha... BOOM! Che top, Marci. Ma cosa che fai, risale? Ok, raga, calma. Adesso controlliamo perché ho messo il... Ho messo dentro il... Sì, è qua, è qua. Ah, sta avendo una base qua sotto. Una base? Sì, sì, ti giuro, ha fatto una base. Ma non ci credo. Te lo giuro, ci ha messo i blocchi. Guarda qua. Ha fatto una base. Guarda qua. Caspita sta facendo. Ma io ne ho uno qua di fia... Ah. Eh... Buon tec, bisogna soltanto aspettare. Ma questo è ancora lo shop, raga. L'ho ucciso. Ti voglio finire con l'arco, ok. L'ho ucciso. Io ho ucciso i poppi, ho ucciso i poppi, raga. Praticamente. Perché ridi? Ho tirato una freccia a casa nella cascata e l'ho beccato. Non ci voglio credere. Sì, giuro. No, non ci credo, Tec. Sì. Fai la personale al, dici la verità, Tec. Ho tirato lì e vado. Ma perché passate sui punti mentre ho l'arco, scusate? Eh! Ma come? Ma non ci credo, ho fatto il fail della madonna, io. È stato bellissimo. Che bello. Eh, ok. Io ho messo un po' di prismarine lì in caso che volesse qualcuno. Ma sì, ma cosa ce ne facciamo? Di prismarine non servono più ormai. Oh, guarda che tanta roba. Ma se manca solo il dandelion. Ok, io sono qua che li sto tenendo i dandelion. Posso farvi un'armatura sola? Ma se fatti tutto non mi serve quella roba lì che ho messo lì. Non ti serve? No, no. Raga, raga, sono passato. Io ormai ho finito di bardare tanto qua. Ok. Perché mi è rimasto molto. Ma è arrivato qualcuno, no? Sto morendo, sto muoro. Marci arriva anch'io. Sto muoro, ho un cuore. Ai, 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 ai. Aspetta. Ok, raga. Ok, devo mangiare, devo assolutamente mangiare. Siamo a posto, siamo a posto. Siete l'anna, sto arrivando. Ok, ok, devo mangiare, raga, c'ho pochissimi cuori. Ragazzi, qua non c'è nessuno all'orizzonte. Il dandelion è quello della parte opposta. Ok, ok, raga, sono qua dei dandelion, dovete aiutarmi però. Eh, io però starei qua in base perché se arriva qualcuno o no. Beh, oddio, mancano i daisy, siamo noi. Ma io non ho più la... Cioè, raga, ma io ho buttato giù il piccolo da qualche parte. Ok, ho ucciso un tulipano perché stava raspando. Tulipano? Ma ancora il tulipano? Eh, ne è rimasto ancora uno vivo, fate voi. No, raga, devo spammare, devo spammare, devo spammare, devo spammare. Sto arrivando io dai dandelion, dandelion, cosi. Sto arrivando io, raga, sto morendo, aiuto, aiuto, aiuto. Ci sono io, tranquillo, tranquillo. Oh, con la qua, con la qua. Ho pochissimi cuori, ho due cuori, muoio. Adio, ma questo non sei te, ma che cavolo. C'è un tulipano nella base sua, però lo tengo d'occhio io. Sono al centro, raga. Raga, ho mezzo cuore, raga, ho mezzo cuore. Non arrivo uno dietro, uno dietro, attento. Dio, raga, oddio. Vedo che non arrivi nessuno qua. Raga, ma non posso usare solo l'arco, ultimamente. Ok, ok, scioglio. Ma io ci sto provando, ma... Qui mi uccide, mi sa. Calma, wait. Mi sono sistemato. Io non ho il piccone, non riesci a dare. Dov'è che sei tu, bomber? Con chi parli? Con te. Sono nella loro isola. Ma come sei nella loro isola? Ma non ho il piccone, intanto. Che lo ho io il piccone. Eh, portamelo, sono al centro. C'è, c'è, ah, ho capito. C'è il tulipano che sta facendo un ponte laterale, non so per dove. E voglio buttarlo giù da qua. Tipo così. Ciao. No, non è caduto. Come ha fatto a non cadere dal ponte? Ma come? Ma come? Ma se è uccido lui, è fatta. Se è uccido lui, è fatta. Ok, ucciso, ucciso, ucciso. Ok, bomber, ascolto. Ti do il piccone. No, no, tienimelo lontani. Due secondi. Ok. Ok. Ah, questo è Svetlana. Ah, ma Svetlana sei te. Ok, ti riempio lontani, ti riempio lontani. Eh, sì. Tu tappati dentro e basta. Eh, sì, come faccio? Eh, rischiamo un altro pochettino io. C'è il tulipano? No, non ci riesco. Sì, mi sono chiuso dentro. Perfetto. Boom! Boom! Ho consumato la spada, ho consumato la spada. Ti posso tanto dare noia io? Davvero al centro non c'è nessuno, vero? C'è un tulipano, forse. No, il tulipano è in base sua, mi sembra. Oddio, ma che cacchio. Eccolo là sotto. Marci, io non ho spada. Ah, ho c'è il piccone. Lo voglio beccare, lo voglio beccare da qua. Oh, oh, ma non va giù. Ma come vai non va giù? Dai, raga, lo sto colpendo con la freccia. Marci, ce la fai? Li faccio il giro io. Sono qua. Ok, ucciso, ucciso. Oh, ma c'è un altro dandelion, eh? C'è Kuro Keneko. Eh sì, è nata al centro ora. In genere, sì. Al centro? Ci sono io al centro, torno in base allora, eh. Ramona. Ramona. Sì. Allora, ragazzi, dobbiamo cercare di farla a Ed sta cosa. Secondo me lui... Eh, ma c'è un tulipano e un coso lì. Un tulipano è nella sua base, ragazzi. Lo dico subito. Sono questi qua, i tulip. E quelli a sinistra della nostra base. A destra del dandelion. Ma dov'è nella sua... Ah, è là, oddio. Uccidiamolo Ed. Sì, sì, arriva anch'io. E intanto io vado a fare una scala. Eh, in realtà dovrei venire a farmi tipo un friccione. Ma dov'è l'altro dandelion? Ti ha fricciato. Le ho spaccato il ponte così riesci a ucciderlo. Io non ho una spada, mi fa se il piccolo. Scappando, ok. Eccolo qua. Ok. 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 Dovrebbe morire a breve. No, mi ha ucciso, oddio. Come ti ha ucciso? Non ho fatto caso a quanti cuori avevo. Vabbè, fa niente, sti cheazzi. Te la faccio io? Ok, l'ho ucciso. Mi ha ucciso. Sì, sì. È rimasto il tipo. E basta. Eh, sì. Non so dove sia, però. Io arrivo, raga. Arrivo. Ragazzi, io l'ho visto che scappava al centro ed era nudo. Però non so che più ne abbia fatto. Ragazzi, sarà shiftato da qualche parte probabilmente. Ma sicuramente dagli altri. Sono io al centro, ragazzi. Voi state lì un attimo in base, che ci guardo. Eh, ragazzi, è dei poppi, eh. È dei poppi. Eccolo, è lui. Come io? Arrivo, arrivo, arrivo. Sono al centro. E ma non è che dopo arriva a... Avete dei blocchi per me? Sì, 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 c'ho 42. Ok, grazie. Te li do, aspetta. Tac. Ok, io ti do, ho niente. Archividerussi, sono sicuro che sia da loro. Cioè, sicuro. Cioè, è l'unica. Non ha senso, se no, come cosa. All'interno, per vedere, dai. Dai, andiamo, andiamo. Eh, io c'ho già il piccone. Ma aspetta, fammi piazzare il piccone sulla seconda mano. Mm, come è buono. Io non trovo nel pezzo di sotto. Non è shiftato da qualche parte. Sì, sì, shiftato da qualche parte è sicuro. Però, ehm, per forza è un quesito... O è al centro o è in quest'isola. Perché io penso che lui se ne andava dalla sua... Ok, è la nostra isola, pure, raga. Vabbè, ma al massimo non ci spacca. Raga, ma si sento... Oh, i quadriero, marci, marci, vieni qui, marci qui. Ah, ecco. Ti c'inchiudo dentro, eh. Allora sei lì a posto. Guardalo, guardalo. È uscito. Guardalo. Vacci d'arco, vacci. Olè! Bella. Bella partita, raga. Peccato per la kill, perché son morto, ma non ho fatto caso a... A quanta vita avevo. Ci sta, ci sta, ci sta. Abbiamo vinto la mappa Daisy. Ciao Daisy, che ci segue sempre. Ciao, Luca. Daisy, un saluto. Margherita, ciao, ciao. E nulla, ragazzi. Io spero che questa Potwars è molto veloce, con le mie amichette. Ci siamo trasformati in ragazze. Io, Tec e Tano. Eh, già. Noi ci vediamo, ragazzi, alle 18. Con un video che è mamma mia sulla Pix. No, no, mamma mia. Vi dico solo questo. Gli altri due sanno già di cosa sto parlando. Io vi dico solo mamma mia. Eh, beh. Mamma mia. E mamma mia, ragazzi. Ciao a tutti. Ciao. Ciao a tutti.